Ciao a tutti Ciao Ciao Come state? Come andate? Io sto bene Io spero che voi stiate tutti 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 bene Oggi ho messo il microfono con speriamo che mi sentiate ma credo di sì allora oggi come potete vedere dal titolo get ready with me devo uscire stasera esco con il mio ragazzo vado a mangiare fuori ecco quindi è arrivato il momento di truccarsi, prepararsi quindi ho pensato bene di truccarmi in campo scusatevi ma in questo video ci saranno moltissimi tagli perché è un orario dove la gente rientra a casa rientra a casa inoltre se guardo tutta questa parte è perché con lo specchio guardo lo specchio io andrei a cominciare subito subito allora stavo pensando in questi giorni se vi potesse interessare un video di una roleplay io avrei subito a sistemare i giuffi allora c'erano di più di queste pinze qui io le tengo questa posse molto piccolina dove all'interno c'erano degli schetti di riutilizzabili di trademark ho anche pensato di proporvi un video di mugbag quindi è un video così di solo scena un video di mugbag allora io adesso c'è il viso potremmo passare soltanto un po' di tonico inizio come sapete già questo tocco di acqua distillata di acqua 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 questi giorni devo andare a riparle non so già come fare un po' di primaveri sono stanca di questo inverno non mi piace inverno ecco non mi piace l'olio ci posso dire ok tonico un po' secondo spettutti perché si asciuga e bocca ho questa crema meravigliosa di filo e c'è la idea vegetale 48 cuore non stop l'arogicicreme bellissimo idrata ed è spettacolare molto cervello bellissimo 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 questa è una colpa che metto io su tutto il viso mattina e sera o se non riesco a fare la mattina con quelle che mi maneggia mi prendo tutti ma sono bella luminosa e non muta è una pelle trova poi metto un po' di mazzolabra per conservare le labbra auguro il mio beauty di libro è stato regalato acquistato dei prodotti il negozio prima che facessi la rappresentanza perché dopo moltissimi anni sono tornata a fare la rappresentanza di questo meraviglioso brand che mi sta dando giunta si vede è soddisfazione allora io per preparare le labbra utilizzo questo qui butter my lips non ricordo dove l'ho costato sì ora l'ho acquistato dalla mia stessa quindi proprio burro il prezzo con le ditte con questo lo stendo lo stendo a niente provatelo con le mani pulite ok l'idratazione è la prima cosa ragazzi che ho acquistato questo nuovo prodotto di astra che è il primer che io utilizzo anche se non metto il fototinta ma mi trovo bene perché comunque quello che ho detto rimane abbastanza allora lo metto guardate un poco è leggermente verde e mi elimina comunque un po' di come si dice un po' di di scroppi della pelle qua la pelle è più luminosa non lo so i rossori lì andiamo qui ancora è più bello ok è stato il diritto di Maybelline New York e se la colorazione no lo vado a mettere sotto sopra e vabbè o cosa vuoi qualcosa quello che ho sotto guardi qua e di là 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 so che dovrebbe rimanere su qualche minuto ma ragazzi non mi interessa ecco certo non ce l'ho fatto questa poi vado a mettere questo come vado a fare il contouring con questo prodotto liquido in nella colorazione di anche questo veramente straconsignato della vita ok 1 2 3 3 3 così in questi questi sono i punti dove io vado il contouring voi direte ah però cosa esce così ovviamente si si fa benissimo scuola le facce non non lo toca si l'argo non 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 ragazzi sto passando la macchina così riscatto semplicemente il viso perché ho usato un contouring con colorazione calda quindi riscatto praticamente il viso, non lo scolpisco vado poi a messare tutto con questa cipria avrei voluto fare il baking ma è una serata tranquilla ecco, ci sta un pennellozzo bello grande ecco, un pennellozzo solo un pennellozzo solo un pennellozzo solo qua ragazzi, invece, raccontatemi un po' di voi come è andato questo mese di febbraio ormai siamo ai primi di marzo oggi è il 2 marzo come è andato? come è andato? come è andato? come è andato? ho andato a fizzare il mio contube che li guido con questa palette astra che non potrò riterminare perché non mi piace allora ho detto già in certi anni quindi io utilizzo questo super pennellozzo ok non so come è andato come sta andato? ho finito con il fissare il contouring con il mio cestino con i pennelli ma guarda prendere il mio cestino con i pennelli e prendo un pennello da sfumatura proprio questo qui ecco qua prendo ecco di nuovo la mosaic e prendo questo colore ecco lo vedo questo marroncino qua questo e lo vado a mettere di qua per andare a dare un po' più di profondità prendo anche questo e quindi nel caso questo detto questo vado a fare le sopracciglia con questo prodotto fantastico di essence il fix it like a boss è un gel trasparente per sopracciglia ma ve l'hai vista tutto il giorno cioè diventano delle pietre davvero ok parto non dall'inizio ma da metà perché così scarico un po' il pennello e pettino tutto tutto verso l'alto vedete la differenza ovviamente dando una forma normale e con del senso ok girate così alto mi piacciono moltissimo sguardo più aperto ragazzi che bello da quando c'è finalmente questa moda perché sono sentita una frana con le sopracciglia di sopracciglia naturali ma è all'insubio sono troppo felice veramente allora è un prodotto che va lavorato ecco cioè non è che se vi fate così vi rimangono cioè va lavorato quindi passato più volte è rialzato l'all'altro l'all'alto l'alto 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 ok così vado ad applicare questo illuminante in stick di Kiko dito alla mano e vado a metterlo qui sull'azzino qua ma non vi farò quasi domani la sera poi vado a mettere la mia il mio brush è super pigmentato quindi poco poco voglio dire la mente sopra il illuminante sì così naso mi piace tutto questo qui che è veramente infallibile la vita nei piletti lascia sensationata allora io faccio sempre dove passate la prima pettino anche qui il segretto pettinare già vedete come la differenza adesso vado a fare anche qua una passata comunque ho il bagnere un po' di burro ok vado a mettere questa matita di essence nella colorazione 01 cinnamon spice o cinnamon spice la vado a mettere su tutte le labbra ok scusate staccio un po' di overline perché lui sarà il nostro rossetto della serata ok lo amo ok allora metto poi questo campioncino di il rossetto gloss trasperante la cicchietta ok ok dico perché questo è il trucco beh spero che vi piaccia ragazzi detto questo questo è il trucco semplice semplicissimo davvero come potete vedere semplice luminoso perché puntiamo sulla luminosità spero che questa combo labbra vi piaccia sarà molto carina e ci rivediamo al prossimo video che spero sia molto 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 presto spero di vederci molto molto presto spero di avervi tenuto compagnia in questi pochi minuti di video fatemi sapere se il trucco vi piace se vi siete rilassati e come sempre vi chiedo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto di lasciarmi un commentino qui in basso perché leggere i vostri commenti mi riempie sempre il cuore di gioia perché mi fa capire che sto facendo qualcosa di bello sapere che ci sono delle ragazze che mi seguono proprio dal primo video è bellissimo cioè mi fa capire che comunque i miei video vi piacciono vi rilassano e soprattutto vi aiutano cosa che per me è importantissimo quindi vi rimando un bacio e ci vediamo al prossimo video fatemi sapere come sempre se avete delle richieste io le cercherò sempre di esaudire fatemi sapere come vi dicevo a inizio video se vi possono interessare di roleplay dei macbang dei video e niente vi mando un bacio grande 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 ciao 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 ciao